Se volete accomodarvi iniziamo. Intanto buonasera a tutti e benvenuti a tutti. Che cosa facciamo oggi? Facciamo una scommessa. La domanda che ci siamo fatti un bel po' di tempo fa è stato il Sud ha futuro? Il Sud non ha un futuro. Questa è la risposta che ci siamo dati. Perché il Sud ha tanti futuri. E questi sono i futuri che la Fondazione Magna Grecia cercherà di disegnare insieme ai 50 relatori protagonisti nazionali e internazionali che porteranno avanti le 12 tavole tematiche di oggi, domani e domenica. La Fondazione Magna Grecia ha riunito alcuni elementi più brillanti del panorama nazionale e internazionale e ha deciso di metterle a confronto per ragionare dei temi del Sud. Non si è chiusa in una torre e burnea ma ha deciso di rendere pubblico questo evento e di farlo appunto in una splendida città. E io chiamerei subito il Presidente, nonché fondatore della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti. Vieni Nino. Il tuo è aperto. Allora, questo è il momento dei saluti, no? Abbiamo un inizio, un avvio informale. Oltre a informare questo format nuovo che io non mi aspettavo, pensavo già seduti. Sei in tutti i dovre, siamo circondati da Nino Foti. Seduti tranquillamente, no? Oggi intanto diamo il benvenuto, è l'inizio dei lavori, come avete detto voi, in questa iniziativa che oltre ad essere un evento è un'organizzazione che ha fatto una scommessa proprio su questa iniziativa, nata proprio qui a Palermo, nel testimone Saverio Romano, perché siamo stati insieme a costituire un laboratorio per il Sud circa due anni fa, Lab Sud insieme all'Eurispes, che ha proprio dato l'inizio a una serie di attività, di ricerca, non essendo nessuno di noi ricercatore, né tantomeno accademico, anche perché con rispetto di tutti gli accademici che sono qui, normalmente quando gli accademici sono fra di loro non ne viene fuori niente che non sia altra scienza di libri studiati su altri libri e quindi è necessario in questo momento che non sia una... Petinino che subito dopo viene un accademico, quindi stiamo... Giusto per smentire dall'inizio, perché abbiamo tutte le parti. L'accademico che viene dopo è il frutto di tutto questo lavoro e quindi non è solo esentato ma è il risultato di questa analisi fatta proprio da non addetti ai lavori. Noi quando circa 30 anni fa, 29 anni fa, abbiamo fatto il primo convegno con Giovanni Pugliese Caratelli che conoscono, che era scomparso un po' di anni fa, 101 anni, che era il massimo storico vivente, grecista, cioè colui quale unico al mondo da un papiro riusciva a dare una pagina di storia e lui ha detto, io sono venuto all'inaugurazione insieme all'allora presidente degli studi filosofici in Marotta, leggendo l'onore francese, perché voi non siete accademici, perché siete delle persone interessate alla cultura e siete curiosi e quindi è più facile che siate, come dire, portate a dare una mano a un problema come questo. Mino, siccome è entrato Paolo Mieli, intanto così ne approfittiamo per salutare un po' degli ospiti. Chiediamo se potete andare, così ce lo vediamo tutti. Il tuo faccione Paolo, grazie di essere arrivato a Palermo anche tu. Abbiamo tutta una serie di illustri ospiti prestigiosi che sono stati qua. Io saluto perché c'è Melinda Chen, che è una dei vertici di una grandissima azienda cinese e quindi è una di Blue Technology Shanghai. Abbiamo un ministro, Pandeli mi dicono, magico, che sì, credo, magico. E poi io ora non vado, diciamo, oltre. Li conoscerete tutti, tavolo dopo tavolo, perché sono appunto 12 tavoli, sono tante giornate. Visto che abbiamo iniziato in ritardo e vi chiediamo anche scusa, però è normale. Purtroppo all'inizio chiamiamo immediatamente il professor Poli e iniziamo con la ricerca, a meno che tu non abbia qualcosa da aggiungere. No, voglio salutare il professor Poli dopo le brutte parole che ho detto sui professori. Anche perché è lo scuro oggetto del desiderio della stampa. Tutti a chiedere di questo primo rapporto, quasi che contenesse... Vediamo cosa contiene. Peraltro non ha nemmeno il suo nome, perché dice che con la cravatta ci spiegherà tutto. Quindi lasciamo alla cravatta del professor Poli il podio e buon ascolto delle tecniche anticipanti e anticipatorie. Grazie, benvenuti. Ringrazio la Fondazione Magna Grecia e il suo presidente per il loro graditissimo invito. Permettetemi di presentarmi, sia pure molto velocemente. Io sono un futurista, non perché indosso questo tipo di cravate, ma perché lavoro con il futuro. Con i miei collaboratori aiutiamo aziende, istituzioni, scuole a vedere i cambiamenti in arrivo e a preparare strategie, a vedere cosa decidere per affrontare nel modo migliore le situazioni che stanno arrivando, le situazioni che sono in fase di maturazione. Così come il legno è la materia fondamentale del lavoro che fanno i falegnami e gli idraulici lavorano con i tubi, ecco noi lavoriamo col futuro come la nostra materia primaria di riferimento. E oggi volevo darvi alcune idee, diciamo tre idee, focalizzarmi su tre aspetti che danno almeno un minimo di idea di che cosa vuol dire lavorare, che tipo di lavoro stiamo facendo, che caratteristiche ha, che tipo di risultati ne sono emersi ed eventualmente qualche piccolo suggerimento strategico da prendere in considerazione. Ovviamente sono tre frammenti, non avrò il tempo, mi hanno appena detto che devo anche restringere ulteriormente la mia presentazione, per cui saranno delle immagini molto veloci. Il mio punto è di dare delle idee di base, non entrerò in questioni tecniche perché ovviamente non è questa la sede per vedere i dettagli tecnici. Prima di tutto, perché questa focalizzazione sul futuro e da dove deriva? Siamo in un mondo di enormi cambiamenti. Sto dicendo una banalità, d'accordo, però anche se è una banalità è un fatto che bisogna prendere in considerazione. Sono cambiamenti che stanno accelerando, cioè sono sempre più veloci. Questa è una situazione che crea incertezza, crea disorientamento. La gente non capisce più che cosa sta succedendo. L'esperienza che abbiamo fatto, che è una cosa a cui ognuno di noi è estremamente, legato perché è la nostra storia, siamo noi, non ci dice più che cosa dobbiamo fare. Non è più sufficiente per suggerirci le decisioni che dobbiamo prendere. Da qui il salto in avanti. Se le informazioni che vengono dal passato, cioè la nostra storia, la nostra esperienza, da sola non è più sufficiente per dirci cosa dobbiamo fare, dove altro andiamo a cercare informazioni se non nel futuro. Il problema è capire i diversi modi in cui le cose possono andare, capire le diverse direzioni che abbiamo davanti a noi in modo da poi poterle intercettare in maniera eventualmente adeguata. Quasi tutte le teorie dello sviluppo fanno riferimento a qualcuno, un cosiddetto esperto, che sa come vanno le cose. Può essere il governo, può essere il Fondo Monetario Internazionale, può essere qualche altra grande organizzazione. Diciamo che i risultati finora forse non sono stati troppo soddisfacenti, c'è qualcosina che non funziona. Quindi forse bisogna avere anche il coraggio, e questo è uno dei meriti a cui ascriviamo alla Fondazione Magna Grecia, anche di provare strade nuove. Le vecchie strade hanno dimostrato di non essere adeguate al tipo di cambiamenti che abbiamo, servono idee nuove. Una delle idee è quella dell'indice di futuro, che è uno degli strumenti che stiamo costruendo, che abbiamo costruito in una prima versione e che stiamo già testando, che è un modo per capire quanto una persona o una comunità, che poi vuol dire organizzazione, istituzione, è aperta al futuro. Che tipo di apertura è mentale, è organizzativa, è operativa davanti a cambiamenti che possono essere radicali e completamente imprevisti. Quindi provare a misurare il grado di apertura al futuro, sia per persone che per comunità, il grado di preparazione al futuro e il grado di anticipazione, semplificando moltissimo quali sono le competenze culturali, cognitive, mentali che persone e organizzazioni hanno, quali sono i mezzi a loro disposizione per tradurre le competenze in azione e quali sono le disponibilità effettive a mettere in opera le intuizioni di futuro che possono avere. Quindi capacità culturali, strumenti, capacità di tradurre in azione i precedenti risultati. In una situazione in cui la dimensione della cura sia una dimensione fondamentale. La cura è spesso usata come idea che si riferisse a chi accudisse, ad esempio, una persona fragile. L'intuizione è che in realtà un'attitudine di cura serva a tutti i livelli. Serve a livello sociale, al prestare attenzione gli uni e gli altri ai problemi che ci possono essere. Serve a livello di gestione del territorio. Anche i territori possono essere fragili e hanno bisogno di cura per essere gestiti in maniera adeguata. Ovunque vi siano situazioni di vulnerabilità, questo richiede un'attitudine specifica per tenerne conto e per sviluppare delle strategie vincenti. Ma come si lavora col futuro? Beh, ci sono tantissime cose da dire. Ce n'è una però che vorrei sottolineare in maniera molto precisa. È inutile copiare quello che hanno fatto gli altri. È inutile dire la California o qualunque altra realtà di notevole, ovviamente, successo. Quella è la loro storia. È quello che è andato bene a loro. Il problema è capire due aspetti. Quali sono le capacità di base che comunque sono necessarie per lavorare col futuro. E qua ci sono delle capacità che sono trasversali e che valgono in tutte le situazioni. Ma poi, quale tipo di futuri sono coerenti con le caratteristiche delle comunità locali. Quali tipi di futuri hanno a che fare con la storia, con la cultura, con le tradizioni, col modo di fare delle persone di quel particolare luogo. Il futuro non è un tema astratto. Il futuro è la costruzione di una strategia che è come un abito su misura. Deve essere calibrato sulla realtà con cui si lavora. Altrimenti, semplicemente, non funziona. Non dà risultati. E uno dei problemi importanti nel pensare i futuri legati al Mezzogiorno d'Italia è capire quali sono le caratteristiche del territorio, le caratteristiche delle persone, le caratteristiche culturali della comunità che permettono di aprire un discorso di futuro e lavorare su quelle per magnificarle, per ampliarle, per renderle più significative. Un secondo aspetto. Parliamo di futuro ma il passato è anche importante. Il futuro non è slegato dalla storia di una realtà. Non si può lavorare sul futuro se non si tiene in conto anche con chi stiamo lavorando, di chi stiamo parlando, quali sono le caratteristiche. Qui è interessante notare che abbiamo tipi diversi di passato. Ci sono passati che sono diventati muti, silenziosi, afoni. La cultura greca per il Medioevo era fondamentalmente muta. Il Medioevo non era in grado di leggere la cultura greca, sto molto semplificando, scusatemi, ma è solo per dare un'idea, e quindi non era una fonte di sollecitazione di idee. Il Rinascimento invece era stato un periodo storico che ha saputo valorizzare, leggere, capire e utilizzare produttivamente quello che erano i risultati della cultura greca. Questo vuol dire che il passato non è tutto uguale. Ci sono passati che sono morti, afoni, chiusi, e ci sono passati che sono aperti, che sono ancora in grado di darci delle idee, di darci dei suggerimenti. I classici, dal punto di vista artistico e dal punto di vista letterario, sono passati di questo tipo. Leggiamo delle cose scritte duemila anni fa e ancora ci dicono tante cose interessanti. Quindi si tratta ad esempio di capire su questo territorio ma la cultura della Magna Grecia ha ancora qualcosa da dirci? Domanda interessante. E fra 10, 20, 30, 40 anni avrà ancora qualcosa da dirci? E cosa possiamo fare perché continui a dirci qualcosa, perché continui a essere motivante? C'è tutto un lavoro anche di scavo, anche di riconfigurazione dei tratti fondamentali della cultura della Magna Grecia che sono indispensabili per costruire una strategia di futuro che sia coerente con la storia che abbiamo alle spalle, senza la quale si lavora nel vuoto, senza la quale è come applicare una ricetta astratta che però non riesce a toccare, non riesce a penetrare nel tessuto di riferimento. Cosa abbiamo fatto? Al di là dello scrivere, del lavorare molto su tanti dati e sul capire come mettere in movimento i temi di cui vi ho appena parlato. Abbiamo condotto alcuni esercizi di futuro. In alcune zone, celte del territorio, abbiamo svolto alcuni esercizi usando i metodi dei futuristi. L'ambito degli studi di futuro esiste da oltre 70 anni. Non è una cosa che è nata oggi. Abbiamo già fatto molta esperienza, abbiamo già fatto tutti gli errori che potevamo fare. Ovviamente errori, ce ne sono sempre molti, che si possono fare, ma abbiamo anche acquisito qualcosa. Ecco, c'è una batteria di metodi, di strumenti che si possono usare per lavorare con le comunità, con gli stakeholders, con le persone per far emergere le loro attitudini di futuro e quindi capire meglio come intervenire per rafforzarle, per crearle, renderle più forti e così via. Abbiamo collaborato con alcune aziende, soprattutto le più creative, per capire il tipo di visione, il tipo di innovazioni che introducono nel territorio e da questo abbiamo ricavato una serie di conclusioni. Mi hanno chiesto di essere molto breve, per cui sarò costretto a saltare alcuni passaggi, però la presentazione sarà a disposizione per cui chiunque avesse delle domande può ovviamente farle. Cosa abbiamo ricavato? Abbiamo ricavato che rispetto agli esercizi finora condotti, e ne dovremo condurre molti altri, è che la percezione di futuro è in qualche modo indebolita, è in qualche modo rattrappita. Il livello delle aspirazioni da parte di molti stakeholder sono inusitatamente rattrappite. c'è moltissima frustrazione, c'è ovviamente una percezione di immobilità che in un mondo che corre, che cambia molto velocemente, è un problema importante, c'è un problema ovviamente legato al funzionamento delle istituzioni, ci sono molte speranze, molte aspirazioni deluse, c'è una incapacità di percepire il possibile miglioramento. Ecco, questi sono tutti i fattori su cui lavorare, perché se uno non vede che c'è un po' di luce alla fine del tunnel è difficile che si tia da fare per migliorare la situazione. Bisogna creare le condizioni perché la speranza possa ritornare, perché ci sia un'attività, un modo di fare che faccia vedere che si può cambiare. È fondamentale incominciare a cambiare, incominciare a far vedere che dei risultati è possibile ottenerli, perché su quello si può lavorare per rafforzare ulteriormente. permettetemi un'affermazione che può sembrare una battuta ma non credo che lo sia. Si tratta di trasformare il Sud da un luogo da cui i giovani scappano a un luogo che diventa una calamita, un attrattore. Che invertire questo processo per cui si perdono costantemente le capacità migliori che sono quelle dei giovani che sono più naturalmente orientati al futuro di quanto lo possiamo essere noi che abbiamo già una certa età esperienza alle spalle e diventare un attrattore. Fare in modo che si inverta questa direzione di non sviluppo e che diventi. Le condizioni ci sono. C'è un territorio che è meraviglioso che non è curato o che spesso non è curato che ha bisogno di quell'attitudine di cura a cui facevo riferimento prima e tutte le altre dimensioni della vita sociale a cui è possibile fare riferimento. Sono costretto a saltare i dettagli del lavoro fatto ma c'è in realtà una quantità enorme di elementi che abbiamo ricavato che poi saranno disponibili nel report che abbiamo consegnato alla fondazione in ulteriori lavori che stiamo facendo per provare a dare alcuni suggerimenti alcune indicazioni per far vedere che lavorare col futuro non è poi una cosa astratta non è una specie di esercizio che si fa perché è intellettualmente bello soddisfacente sì una meravigliosa avventura intellettuale ma non è quello il punto noi lavoriamo col futuro per prendere decisioni noi non siamo scrittori non siamo cineasti non lavoriamo col futuro solo perché è una bella idea lavoriamo col futuro perché vogliamo che certe decisioni vengano prese che la situazione cambia allora è fondamentale da questo punto di vista intravedere almeno alcune strade percorribili e volevo dare sei idee fondamentali a cui fa riferimento alcune sono un po' note altre forse un po' di meno l'attitudine di cura l'ho già menzionata fin dall'inizio rimane un settore fondamentale se non sviluppa un'attitudine di fiducia che si basa poi sulla cura reciproca è difficile mettere in moto dei processi di trasformazione è una precondizione se continuiamo a non fidarci e ad avere rapporti e ad avere situazioni di sospetto diffusa gli uni nei confronti degli altri è difficile mettere in moto un qualunque processo qui quando si tratta di creare anche un luogo in cui un contesto un modo di fare un'attitudine in cui questa dimensione della cura reciproca che poi è cura nei confronti delle persone le une con le altre è cura nei confronti del territorio è cura rispetto al modo in cui le istituzioni vengono gestite cioè sembra un termine unico ma che in realtà ha molte declinazioni diverse questo lo prendo semplicemente come base da cui partire un secondo elemento i giovani scappano stiamo tutti invecchiando bene lo sappiamo la silver economy diventerà il settore trainante dell'economia almeno a livello europeo dei prossimi decenni bene utilizziamola invece che vederlo semplicemente come un problema certo che è un problema invecchiamo tutti in maniera anche abbastanza significativa però la silver economy cioè l'imparare a gestire l'invecchiamento della popolazione e a fornire servizi adeguati al cambiamento demografico in atto è una occasione chi lo saprà fare avrà degli strumenti in più rispetto a coloro che invece non saranno in grado di farlo infrastrutture grande nodo dolente che spesso però viene declinato al passato siamo indietro su tante infrastrutture non abbiamo le strade che dovrebbero esserci non abbiamo le ferrovie che dovrebbero esserci e cose di questo tipo giusto fondamentale non sto dicendo che non bisogna pensarci però è un discorso già vecchio pensiamo alle infrastrutture come modo di mettere in rete i punti di eccellenza come modo di rafforzare chi già si sta dando da fare quelle sono le infrastrutture su cui puntare perché se quelle situazioni diventeranno ancora più forti poi a cascata sapranno tirarsi dietro le altre quindi invece che pensare all'infrastruttura in un modo tradizionale retro per così dire e ribadisco non sto dicendo che non debbano essere fatte non è questo il punto ma pensare alle infrastrutture come un elemento di innovazione quali sono i punti di eccellenza le aziende i comuni le comunità le situazioni che hanno qualcosa da dire di importante anche agli altri mettiamole in rete rafforziamole queste sono le infrastrutture che servono perché da lì poi automaticamente emergeranno molti altri fattori fondi strutturali europei un punto su cui corro ci sono molti molti ritardi qua si tratta di uscire da un'illusione non sappiamo gestirli io non credo che sia vero francamente non credo che questo sia il punto perché qualcuno che impari un po' di regole che sappia un po' d'inglese lo si trova non è quello il problema accettare i fondi strutturali europei vuol dire accettare dei fondi di finanziamento importanti che seguono la loro logica che forse è diversa dalla logica che spesso viene applicata ad altri fondi bisogna accettare che ci siano risorse capitoli di spesa importanti che non rientrano nelle logiche spartitorie che spesso vengono usate si tratta di accettare fondi di questo tipo oggi in questi mesi si stanno discutendo si sta discutendo la nuova strategia dei fondi strutturali 21-27 in questi mesi si sta impostando quello che succederà nei prossimi 10 anni se non ci si muove adesso e non si intercettano adesso i fondi che sono cioè che saranno a disposizione fra due anni dopo sarà tardi qualunque cosa si prenda sarà il residuo che hanno lasciato gli altri bisogna muoversi in maniera proattiva bisogna capire che questo è un gioco da giocare e bisogna giocarlo in modo attivo quinta osservazione istituzioni la comunità europea dal 1980 sono 40 anni sta sperimentando nuove logiche istituzionali che noi in Italia non siamo stati capaci di vedere riconoscere e usare stanno sperimentando delle nuove logiche istituzionali di tipo non gerarchico e aperto in cui le comunità inferiori cioè le comunità locali hanno diritto di voce stabiliscono le regole stabiliscono i criteri di valutazione che poi vanno sopra al vertice è una situazione in cui le realtà locali possono partecipare attivamente e soprattutto sono in grado di imparare l'uno delle altre si crea un network in cui il rapporto è fra pari non c'è un problema di negoziazione ci sono regole procedure obiettivi che vengono stabiliti congiuntamente vengono rivisti alla pari dalle unità inferiori che nel caso della comunità europea sono gli stati ovviamente ma perché le regioni non potrebbero fare la stessa cosa perché la stessa logica non dovrebbe essere applicata fra le regioni sono le regioni che incominciano a incontrarsi a stabilire le loro regole le loro modalità i loro criteri di valutazione e poi eventualmente si fa lo scaling up a livello generale e gli obiettivi che emergono da questo processo sono il risultato di una collaborazione costante che ha tutta una serie di elementi in cui gli uni con gli altri sono tenuti a un rapporto di spiegazione reciproca perché l'idea che ci sta alle spalle è che i programmi decisi al centro non funzionano perché ci sono troppe differenze perché i diversi paesi a livello di comunità europea ma potremmo dire le diverse regioni parlando in Italia sono troppo diverse fra di loro stabilire un programma unico che vale per tutti semplicemente non funziona si tratta di invertire la logica partire dalle implementazioni dal lavoro che viene fatto sul territorio e su quello poi costruire eventualmente la strategia complessiva che ne deriva è una inversione di ruolo la comunità europea sta sperimentando queste idee da 40 anni in Italia non sono entrate l'Italia si è guardata dall'altra parte si è voltata così come se fosse una cosa che non ci interessa forse magari abbiamo qualcosa da imparare e magari da provare anche a sperimentare nel nostro territorio e da questo punto di vista forse l'Europa con tutte le sue magagne con tutte le sue difficoltà forse su certi aspetti è più un precursore che un agente di retroguardia magari su certe cose aperto dalle strade che noi per non saprei dire per quale motivo non abbiamo intravisto e non siamo stati in grado di gestire l'ultimo aspetto che devo menzionare perché anche se è una cosa molto nota per cui non sto da questo punto di vista dicendo nulla di particolare è che se non si investe sui giovani tutto il resto che si vada a fare ovviamente è molto problematico quindi superare i ritardi di formazione di una parte non banale della gioventù del sud diventa importante attitudine di cura silver economy connettere i punti di eccellenza uso dei fondi europei nuovi modelli istituzionali alfabetizzazione dei giovani come fattori che possono innescare un processo diverso da dove partiamo questi tre sono praticamente a costo zero o comunque molto limitato si tratta di darsi da fare per mettere in moto dei processi i fondi europei ci sono basta saperli intercettare e poi usarli magari se no serve poco noi modelli istituzionali abbiamo da imparare troviamo il modo di portarli da noi ci sono già esperienze in corso da decenni quindi possiamo imparare non dobbiamo aprire una strada completamente nuova l'alfabetizzazione dei giovani come dicevo prima se non si investe su nuove generazioni è difficile che qualunque altra cosa possa andare in propria e poi eventualmente si può generalizzare sul resto quindi indici di futuro come uno strumento per persone aziende regioni comuni per sviluppare strategie che ci aiutino a vedere meglio i cambiamenti che sono in arrivo e quindi prepararsi per il futuro affrontando ovviamente i problemi dell'oggi e altrettanto permettetemi di dire ovviamente facendo tutto questo lavoro sulle spalle dei valori consolidati delle attitudini della comunità con cui si lavora le cose non si fanno contro la cultura delle persone c'è poco da fare non va da nessuna parte poi ci sono ulteriori passi che dal nostro punto di vista si potrebbero fare ad avere ad esempio un osservatorio permanente che testimoni che certifichi che verifichi lo sviluppo di idee di futuro nel mezzogiorno eventualmente funga anche da sollecitatore in questa direzione costruire senari diffondere gli indici di futuro e quello che noi chiamiamo la future literacy cioè l'alfabetizzazione del futuro fare in modo che le persone incominciano a aprire gli occhi e la mente ai futuri in arrivo se ne volete sapere di più c'è anche questo che è anche in vendita fuori ho visto quindi va bene mi fa molto piacere grazie grazie professore bravissimo perché devo dire che è stato ancora più breve di quanto potessimo immaginare grazie a tutti grazie a tutti